Buongiorno, sono l'ostetrica Samantha Pedonesi, sono qui per presentarvi i corsi di accompagnamento alla nascita della clinica Mangiagalli. L'obiettivo di questi corsi è quello di rispondere alle più frequenti domande delle mamme in gravidanza come ad esempio quando andare in ospedale, cosa succede durante il travaglio, il parto, l'alimentazione del bambino, l'importanza dell'allattamento materno, il corpo che cambia in gravidanza e in ultimo il ritorno a casa col nuovo nato. L'ostetrica sarà sempre presente al vostro fianco nell'accompagnamento in questo percorso a partire da queste mini clip che troverete sul sito del Policlinico sotto la voce Mangiagalli Center e se vorrete approfondire troverete anche tutte le informazioni su altri argomenti quali la donazione delle cellule staminali del cordone umbilicale, la donazione del latte materno, l'agenda della gravidanza a cui potete far riferimento per prenotare tutte le varie visite. L'ostetrica vi accompagnerà da quando arriverete in ospedale, l'accoglienza, durante tutto il percorso del travaglio, durante il parto, durante l'adegenza in puerperio. In ultimo sarà presente anche in quel raccordo che ci sarà con il consultorio di Via Pace, il consultorio della Mangiagalli, dove ci sarà un percorso di accompagnamento di mamma e bambino come continuità assistenziale per supportare la mamma in questo primo periodo della nuova avventura che andrà ad affrontare. Quindi voi mamme non sarete mai sole ma avrete sempre il nostro supporto e con questo vi auguro buon corso a tutte!